Sono 15 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Gota 3, un altro duro colpo inferto alla famiglia mafiosa dei barcellonesi alla quale sono stati sequestrati anche beni per 15 milioni di euro. Questa mattina il procuratore capo Guidolo Forte ha illustrato gli sviluppi dell'articolata indagine che nel giugno del 2011 aveva già portato all'emissione di altre 18 ordinanze di custodia cautelare. Gli arrestati nell'operazione scattata alle prime ore di oggi dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di associazione mafiosa, estorsione, omicidio, intestazione fittizia di beni. La loro partecipazione e le attività della criminalità organizzata è stata accertata attraverso le collaborazioni dei pentiti Carmelo Bisognano, Teresa Truscello, Santo Gullo, Alfio Giuseppe Castro ma anche grazie a quanto riferito dalla famiglia di imprenditori Torre che ha rivelato come la mafia divideva gli appalti pubblici nella provincia tirrenica di Messina con un regolare sistema di tangenti imposto alle imprese anche quelle che lavoravano sull'autostrada Messina-Palermo. Il tutto è stato accertato dalle indagini dei carabinieri del ROS. Figura di spicco dell'organizzazione in grado di interloquire alla pari con i boss catanesi era l'avvocato barcellonese Pio Cattafi, non solo inserito nella famiglia mafiosa ma secondo le recenti risultanze investigative in posizione decisamente apicale. Le indagini hanno consentito di ricostruire gran parte della storia recente della mafia barcellonese, svelare i rapporti della famiglia operante nella zona tirrenica con Cosa Nostra durante la reggenza di Lopiccolo ma anche documentare la latitanza a capo d'Orlando di Gaspare Pulizzi nel luglio del 2007. Individuate anche nuove fonti di prova per il triplice omicidio Martino Raimondi Geraci del settembre del 93. La procura distrettuale antimafia continua nell'assicurare la giustizia a personaggi che dagli anni 90 ad oggi hanno gestito appalti pubblici e movimento terra sempre trovando il modo di riciclargli denaro. L'operazione che ha portato ai 15 arresti ha contestualmente sequestrato 4 imprese operanti nei settori delle costruzioni e dei trasporti.